tanto di cappello, prego le chiedo aspetta andiamo a vedere un attimo la prova andiamo a vedere un attimo la prova alle parallele simetriche poi da te subito Giulietta, la Comova la campionessa del mondo uscente appena eseguito un Jäger teso anche questo è un salto di gran valore la serie dei perni si prepara all'uscita è un doppio flesso indietro con un avvitamento eccellente la